Questo è stato l'anno nel quale molte riforme, delle quali pure ciclicamente si parlava da tempo, in tema di giustizia, sono state effettivamente avviate nel loro iter parlamentare o addirittura sono state già approvate. Sono riforme costituzionali come quella sulla separazione delle carriere, come quella che vuole rivedere in qualche modo il principio di obbligatorietà dell'azione penale, come quelle riguardanti la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura con il rafforzamento della componente laica. E' proprio in queste ore abbiamo avuto esempio di come alcuni interessi vengono tutelati dai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, impropriamente tutelati. Si è parlato e si è discusso di introduzione dei test psicoattitudinali nelle procedure di accesso alla carriera della magistratura. Si parla e si discute di riforme ordinarie gravissime, la limitazione delle intercettazioni, la limitazione già approvata con la riforma cartabbia, quella del governo che godeva della fiducia di tutti o quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale. La riforma cartabbia, la limitazione della possibilità per i magistrati di intervenire nel dibattito pubblico. Il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, la limitazione nella possibilità di pubblicare le intercettazioni anche quando ritenute rilevanti, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, l'ennesima riforma della prescrizione. Non è il caso, in questa sede, in questo momento, di entrare nei tecnicismi, ma due cose ve le voglio dire. Intanto ciò che colpisce è la siderale distanza tra le riforme di cui quotidianamente si discute in Parlamento e reali problemi che affliggono la giustizia, che sono in primo luogo legati alla lentezza dei processi. Dobbiamo avere una necessità e avvertire la necessità di una visione d'insieme di tutte queste riforme. La cartabbia, la riforma nordio, vanno tutte nella stessa direzione. Affondano le radici in un passato lontano, nel primo programma sulla giustizia del primo governo Berlusconi e per molti significativi punti nel piano di rinascita democratica della roggia P2 di Diciogelli. Ma sono riforme che cercano e creano sempre più un sistema giustizia caratterizzato da una finalità di fondo. La protezione dei potenti, la protezione del potere contro ogni forma di controllo di legalità da parte della magistratura con le sue indagini e di controllo sociale e politico attraverso l'informazione. Spacciano per garantismo quello che in realtà è bieca protezione del potere. Limitano l'incisività delle indagini sui reati tipici dei potenti. Perseguono il nascondimento dei fatti rilevanti attraverso il bavaio all'informazione. Allora, rispetto a tutto quello che sta accadendo, come il senatore Scarpinato in un suo articolo aveva efficacemente, a mio avviso molto efficacemente descritto come un adeguamento ad un assetto classista della società, di fronte a un vero e proprio doppio binario del sistema penale minimo per i ceti privilegiati e massimo per tutti gli altri, io ritengo e rivendico il diritto, anche per un magistrato, anche per i magistrati, di esprimere pubblicamente le preoccupazioni che vi ho esposto. E penso anche che chi ha giurato sulla Costituzione non solo abbia il diritto, ma abbia il dovere di farlo in questo momento, il dovere di spiegare le proprie ragioni ai cittadini. Il valente, coraggioso, bravissimo Avvocato Repice vi ha voluto dare anche un accenno di ottimismo dicendo che dopo la notte tornerà la luce. Io mi rendo conto di avervi forse dipinto un quadro fosco che può indurre all'oscoramento e alla rassegnazione. Mi dispiace affermarlo, ma questo non è il paese che sognavano Falcone e Borsellino. Al di là di tutte le commemorazioni e le ipocrisie di questi giorni, mi dispiace doverlo dire, ma questo non è il paese per cui Falcone e Borsellino, i poliziotti delle loro scorte, tanti servitori dello Stato hanno sacrificato la loro vita. Non è questo lo Stato per il quale meritava di essere sacrificata la loro vita. E ve lo dico facendo riferimento ad un esempio concreto, facendo riferimento a quello che Paolo Borsellino il 26 gennaio dell'89, parlando ad una platea di studenti di Bassano del Grappa, riferiva sull'annoso, già allora annoso, problema dei rapporti tra la mafia e la politica. Paolo Borsellino lamentava come nel nostro paese non esistesse, e non esiste ancora oggi, una responsabilità politica che è gravi su certi comportamenti consapevoli e volontari. Paolo Borsellino si lamentava del fatto che nel nostro paese, in ordine a rapporti accertati e consapevoli tra mafiosi e politici, se non c'è il reato, se non c'è la sentenza di condanna della magistratura, il politico, diceva Paolo Borsellino e quei ragazzi, viene considerato una persona onesta. E Paolo Borsellino diceva come in un sistema costituzionale la responsabilità politica deve essere fatta valere, anche quando non si può consacrare una responsabilità di tipo penale. Quel grido di dolore di Paolo Borsellino, quella invocazione esplicita di Borsellino ai portiti a fare pulizia al loro interno, è stata completamente disattesa. quel grido è rimasto inascoltato. Anzi, a chi, come accertato perfino in sentenze definitive, per lungo tempo ha intrattenuto significativi rapporti, anche economici, con i mafiosi, e mi riferisco all'onorevole Berlusconi, è stato consentito, in questo Paese, al contrario, di governare a lungo e dopo la sua morte di essere rappresentato come un padre della patria a quale dedicare giornate di lutto nazionale e intitolare aeroporti. Perfino 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 la magistratura Alla quale Falcone e Borsellino dedicarono con intelligenza e passione la loro breve vita continua, in parte significativa, ad essere pervasa da logiche di potere, di sfrenato carrierismo, di ambizione personale che finiscono per marginalizzare e mortificare i magistrati che a quelle logiche non vogliono adeguarsi. L'Italia è sempre più un Paese al contrario nel quale vengono quotidianamente calpestati i valori di onestà, di legalità, libertà, eguaglianza, ripudio della guerra che ispirano la nostra Costituzione. Io credo che soltanto la memoria, la consapevolezza, la partecipazione dei più giovani, soltanto un fremito di pacifica ma ostinata ribellione potrà salvare la nostra democrazia dalla deriva alla quale sembra destinata. Grazie. Grazie.